Tante le proposte o alternative che girano attorno agli eventi in cartellone della quinta edizione della settimana culturale Fondana. È stata allestita nella sala del Castello Baronale la ludoteca per bambini finalizzata all'educazione ambientale a cura dell'Associazione Ipomea. Giusy Vergara dell'Associazione Ipomea, le finalità dell'Associazione? L'Associazione si occupa di valorizzazione e promozione del territorio da circa due anni. Noi praticamente ci occupiamo di tutto quello che riguarda il trekking in montagna, il trekking in natura e soprattutto l'ottima connessione che c'è tra la natura con i cenni storici che abbiamo nella zona. Non solo nel centro storico ma anche lungo i sentieri dei Monti Aurunci, Monti Osone, il Monumento Naturale del Lago di Fondi. Con noi c'è Giancarlo Pagliaroli. Cosa si può trovare nella ludoteca? Da ieri proponiamo una serie di laboratori didattici su vari argomenti, in particolare di sera abbiamo affrontato il tema delle piante, della macchia mediterranea che troviamo sui nostri monti, nei Monti Aurunci in particolare. I genitori, le famiglie che arrivano qui per godersi gli spettacoli della settimana culturale, però appunto ci sono dei bambini, cosa possono fare? Allora possono lasciarci i loro bambini, affidarceli dalle 21 alle 23, in queste due ore abbiamo steso un programma di attività che coinvolgendoli nella fabbricazione, nella stimolazione propria, suscita un interesse, non è una lezione teorica, lo è in parte. Grazie a tutti.